Ieri il monito del presidente napolitano, oggi l'ultimo appello arriva dalla chiesa. Fate presto, nella terra dei fuochi è in atto un disastro ambientale e un dramma umanitario. Questo sentiamo di dire a quanti hanno ruolo, responsabilità e autorità di intervenire e decidere per frenare il dilagare di timore, paura e di mali. La firma è dell'arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, ma a sottoscrivere la lettera ci sono in calce quelle dei vescovi delle sette diocesi nei territori della Campania colpiti dall'inquinamento dei rifiuti tossici ad opera della Camorra. Napoli, Caserta, Acerra, Aversa, Pozzuoli, Nola e Capua. Parole mai così dure, troppi stanno pagando sulla propria pelle, arroganza, prepotenza, inciviltà, avidità di criminali che senza nemmeno pietà per i propri figli non hanno esitato a vendere la propria terra a persone disoneste quanto loro, violentandola e avvelenandola. Non mancano le critiche dei vescovi dirette all'operato della politica, con l'esortazione a passare dalle parole ai fatti. Urgono bonifica, controllo sanitario, perimetrazione delle aree inquinate, tutela dei produttori danneggiati. La Chiesa, insomma, scende di nuovo in campo, rilancia l'allarme per l'aumento del tasso dei tumori denunciato dalla popolazione. Si schiera a fianco del religioso che da anni combatte il fenomeno in prima linea, il parroco di Caivano, Don Maurizio Patricello. A lui, soltanto ieri, si era rivolto sempre con una lettera il presidente della Repubblica Napolitano. Sulla terra dei fuochi non si può abbassare la guardia, aveva scritto il capo dello Stato, che ha promesso un concreto interessamento per sollecitare gli interventi e seguire le richieste di risarcimento. Molto felice per il doppio sostegno, si è detto Don Patricello, in questa battaglia oggi mi sento meno solo, commenta. L'incontro tra il capo dello Stato e il parroco avverrà presto, con ogni probabilità entro lunedì prossimo, quando dovrebbe concludersi il soggiorno privato a Napoli del presidente della Repubblica prima del rientro a Roma.